Come giudica i due anni di commissariamento al Comune di Foggia e come vede questa ormai imminente campagna elettorale in vista del voto di ottobre? Riguardo i due anni di commissariamento, certamente al di là delle azioni, degli interventi tecnici che sono stati fatti, necessari, dovuti, importanti, certamente noto una comunità che si è un po' persa manca la guida, c'è molta disgregazione, molta frammentazione anche a livello proprio sociale quindi occorre riprendere, ma d'altro canto ai commissari è stato chiesto, hanno un compito specifico devono svolgere un ruolo specifico, altro non potevano svolgere. Ora occorre riprendere in mano lo stato sociale proprio della nostra comunità, della comunità di Foggia, perché qui si parla appunto non della provincia ma del capoluogo di questa provincia. Come vedo le prossime elezioni? Io penso che ci dobbiamo rimboccare le maniche, siamo ad agosto, occorre mettere fuori anche le tematiche di cui si occuperanno i candidati, incontrarli, che loro si presentino alla città immagino che lo faranno e andare a votare convinti, ma la cosa che mi auguro è che le tantissime persone che hanno smesso di votare in questa terra tornino alle urne a ottobre. È importante, è importante che quel risultato, ci auguriamo il migliore possibile, quello che fermi l'ingresso, il possibile eventuale ingresso nuovamente delle mafie, della nostra amministrazione comunale, sia un risultato convinto della maggior parte delle persone, non di chi va a votare perché è convinto, perché è convinto da qualcun altro, no, ma che sia un voto consapevole di tutti i cittadini della nostra città. I nomi in campo la convincono? Sì, io penso che siano tutte degne persone, ora bisognerà, questo per quanto riguarda la cosiddetta coalizione larga di centro-sinistra, sulla destra non sappiamo ancora, mi auguro che ci sia una stretta adesso sul nome, un po' di convincimento verso la città bisogna darlo, altrimenti le persone brancolano, brancolano nel buio. Vi presento mio nonno Gino, un tipo in gamba che mi fa sempre tanto ridere. Mio nonno, dovete sapere, li voglio tanto bene, ma a volte ha davvero la testa dura e credi di essere più furbo degli altri. No, ma c'è sta facendo, non l'ho fatto apposta. Ma che figure mi hai fatto fare nonno, non ci si comporta così. Facciamo una cosa, ora ti porto io in un posto dove puoi buttare tutta questa roba. Seguici. Vedi nonno, se invece di perdere tutto questo tempo fossi andato all'isola ecologica saremmo stati tutti più felici. Io, te, i miei amici Bundabash e l'ambiente che dobbiamo proteggere.